Continua a lievitare il costo del denaro presso la BCE che innalza i tassi di interesse di un altro 0,50%, raggiungendo così quota 2,50%. La riflessione dell'economista Gianni Lepre. Ancora un aumento dello 0,50% del costo del denaro in Europa. Siamo ormai arrivati a 2,50% complessivo. L'argomentazione frenare l'inflazione che in Europa ha raggiunto e superato il 10%, frenando i consumi attraverso l'aumento del costo del credito e quindi difficoltà ad accedervi, tutto questo frena poi anche l'inflazione. Noi continuiamo ad essere di avviso diverso. Il danno oggi è proprio quello di frenare i consumi. Potrebbe provocare la chiusura di decine di migliaia di aziende ed il licenziamento di centinaia di migliaia di lavoratori. Grazie. Grazie.